Adesso in conclusione, prima della sigla, non avrebbero potuto mancare gli auguri natalizi del nostro Alfonso Restivo, alias Fofo, pur tu su. Fofo, ma come sei seduto? Eh eh? Eh eh, sono seduto a tipo artare, una casta di Natale a destra, una casta di Natale a sinistra. E Natale, ma come te la passi? Eh eh? Eh eh, ma passo di papa, una casta di ca, una casta di cabana. E tu ricevi i tuoi compaesani così? Eh eh? Io ricevo i miei compaesani e anche i miei concittadini agrigentini così, perché io auguro buon Natale a tutti i miei paesani della provincia dell'Arigento, a tutti i miei concittadini ricchi e poveri perché siamo figli di Dio e anche tinte e buoni perché Gesù ho scende per i tinti, no per i buoni, per darci la pace e salvaccio il corpo e l'anima alle persone tinti e anche a bestemiatura che chiedono perdono, Dio li perdono a più di Dio perché sono figli di Dio. E Natale come te la passi? Eh eh? Il Natale me la passo eh eh me la passo di papa, una casta di ca, una casta di cabana di Natale. Però io che deve essere un Natale tranquillo e sereno, non mica per la provincia e per la città che c'è, ma per tutto il mondo. E dopo auguro un buon capodanno, anticipo un buon capodanno a tutto il mondo intiero che non ci sia questa guerra, non ci sia la droga perché la droga rovina la vita dell'uomo. I mafiosi si devono carmare, non si devono uccidere perché è un peccato mortale, perché Gesù è nato per dare la vita, non per uccidersi i mafiosi e i mafiosi, buoni con buoni, tinte con tinte. Il tuo augurio, però nonostante siamo a Natale, sei sempre nervoso eh eh? Sì, sono sempre nervoso perché quando vedo cose cattive io mi annervo. E allora che fai? Allora io dico che quando io sono nervoso che non posso vedere cose cattive che si sentono in televisione, che io voglio la pace, che Gesù dà la pace e i tinte buoni. Io sono troppo nervoso a volte, mi viene di piangere perché sento cose cattive in televisione. E quando sono nervoso che io non ne posso più, che soffro, che si uccidono per niente, io prendo la giunga di indasca, me la metto in bocca e maccio con la giunga per passare nei nervi che hai sulla testa. Grazie.